Una BMW Serie 3 a benzina guidata da un 78enne di Fano è finita in maniera autonoma fuoristrada cappottandosi e terminando la sua corsa in un campo. Alle 16 di oggi l'uomo a bordo della sua auto mentre procedeva in direzione Montemare all'altezza dello svincolo per Bellocchi a Cucurano per ragioni ancora al vaglio della polizia municipale ha perso il controllo del mezzo e dopo aver divelto completamente il cancello di ferro e il suo supporto di una casa al numero civico 71 proprio a ridosso della via Flaminia capottava nel campo rimanendo incastrato all'interno del mezzo. Poco distante due macchine dietro provenienti da un intervento una volante del commissariato di Fano ha assistito alla scena vedendo letteralmente volare in aria i pezzi dell'auto e del cancello e si è subito attivata per intervenire. Gli agenti una volta assicurati sì che l'uomo era in buone condizioni vista la sua età hanno atteso l'arrivo dei vigili del fuoco di Fano per estrarlo e consegnarlo nelle mani dei sanitari del 118 intanto arrivati con un'ambulanza sul posto. L'uomo apparentemente non ha riportato gravi conseguenze ma vista la dinamica dell'incidente pur essendo vigile e cosciente è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro per tutti gli accertamenti. Sul posto per i rilievi del caso anche una pattuglia della polizia locale e assieme agli agenti della volante hanno regolamentato il traffico che in quell'ora inevitabilmente ha subito rallentamenti.